Sono un po' stanco, quindi quest'ultima discesa la faccio di sedere sul nevaio. Non ho voglia di camminare. Vediamo se non mi uccido. Ok ci siamo, vai vai vai, troppo comodo. E vai. Ero partito lassù in cima, mi son risparmiato una trentina di metri di dislivello. Adesso si può camminare. Colle del Niveau-Lé, siamo a 2.600 metri circa, con una stupenda vista sul Gran Paradiso. E va al Savaranch, confine tra Piemonte e Valle d'Aosta.